Notizia dallo Spallanzani di Roma che Mattarella è arrivato, lo Spallanzani, ma l'ha già ricevuto il vaccino. Sì, è già stato, ma c'è anche una foto? Ah, eccolo là, c'è Mattarella in prima fila che aspetta il suo turno con tante altre persone. Va bene, auguri al nostro Presidente. Io sono molto contenta che si vaccini perché penso che in un paese democratico che ha a cuore la sua democrazia mettere in sicurezza che a capo delle istituzioni più importanti sia un'ottima notizia.